Ci tengo a riportare il contenuto del comunicato di quest'oggi che in occasione della festività della Repubblica che si celebra il 2 di giugno, noi inizieremo una 5 giorni a partire dal 1 giugno, anche perché andiamo a recuperare una serie di eventi che avevamo organizzato in occasione del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, che purtroppo causa maltempo, non si sono potuti tenere, e arriveranno quindi il 1 giugno con una notte tricolore, il 2 giugno ci sarà un convegno a Castello Baronale, il 3 giugno un concerto delle scuole primarie in piazza San Francesco, Il 4 giugno avremmo un interessante dibattito dal titolo Costituzione, legalità e cittadini, con la presenza del Presidente della Commissione parlamentare antimafia Beppe Pisanu e del Professore Emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, il tutto moderato da Carlo Di Cicco, Dottor Carlo Di Cicco che è il Vice Direttore dell'Osservatore Romano e ci sarà la partecipazione anche del Presidente dell'Osservatorio regionale della legalità, l'Avvocato Vitarelli, in rappresentanza della Regione Lazio. E il 5 avremo la tanto attesa inaugurazione di Piazza De Gasperi che porta a compimento un intervento importante per questa città.